Signor Sindaco, su che si basa l'economia di Tivoli? Tivoli è stata fin dalla seconda metà del Settecento, anche se allora l'accezione economia industriale aveva un altro significato. Tivoli è stata una città industriale soprattutto dalla fine dell'Ottocento agli anni Sessanta-Settanta del Novecento. Aveva come attività industriali cartiere, industria del travertino, termi, ma l'attività industriale era soprattutto travertino, cartiere, e poi c'era un grosso, un importante stabilimento della Pirelli, che aveva 3.000 dipendenti. Pensate che le cartiere erano molte, ma nei primi anni del Novecento una sola di queste aveva più di 500 dipendenti. Perché le cartiere? Perché la ricchezza di Tivoli si è basata per millenni sull'acqua. La grande cascata di Tivoli, il fiume, la grande cascata, costituivano la base per una forza motrice che era quasi gratuita. L'industria del travertino poi, le cave di travertino e gli stabilimenti per la lavorazione del travertino. Il travertino sta per l'apis tiburtinus, pietra di Tivoli. Si pensi soltanto che con la pietra di Tivoli, con il travertino, è costruito il Colosseo, è costruito il colonnato del Bernini di Piazza San Pietro, è costruita la Fontana di Trevi, e così via. Si potrebbe continuare attraverso i millenni. Oggi ancora il travertino è una pietra pregiata, impiegata per costruzioni architettoniche importanti nel mondo. La sede centrale della banca di Cina a Pechino è in travertino. Erano in travertino i rivestimenti delle torri gemelle, purtroppo oggetto degli attentati che hanno portato a loro distruzione. E' in travertino il Getty Center di Los Angeles, il Getty Museum di Los Angeles. Quindi questa è stata tradizionalmente l'economia tiburtina, non tanto agricola quanto industriale. A seguito dell'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, poi questa tradizione industriale, la consistenza quantitativa di questa economia industriale è venuta un po' meno, perché naturalmente l'industria è nata laddove c'erano agevolazioni a poche decine di chilometri di distanza. E' rimasta ancora una base industriale a Tivoli. Lo stabilimento della Pirelli è stato acquisito da una multinazionale svedese che è Trelleborg e che ormai credo che abbia ripreso ad assumere i dipendenti, pur con i processi di automazione delle attività lavorative, il numero dei dipendenti credo si aggiri oggi intorno agli 800. è attivo all'interno dello stabilimento un centro di ricerca dal quale escono innovazioni per tutti gli stabilimenti sparsi nel mondo di Trelleborg. C'è ancora attività industriale legata al travertino, sia alla estrazione che alla lavorazione, alla filiera completa. C'è poi una serie di più piccole industrie, tenete presente che Tivoli ha quasi 60.000 abitanti, i residenti anagrafici sono 57.000 e qualcosa, quelli presenti sono anche di più. Ha una, chiamiamola colonia, ha una presenza di immigrazione soprattutto dall'est Europa importante. A Tivoli c'è una comunità ortodossa, composta soprattutto da romeni, di oltre 5.000 persone, con una loro chiesa. Tivoli ha puntato di recente molto anche sul turismo. Tivoli, pur essendo sede di industrie, ospita sul proprio territorio due siti UNESCO, cioè due siti appartenenti al patrimonio mondiale dell'umanità delle Nazioni Unite, che sono Villa Adriana e Villa d'Este. Tenete presente che in tutta Italia ce ne sono 55 di siti del patrimonio dell'umanità, due sono attivoli, Villa d'Este e Villa Adriana. Attualmente, naturalmente, risentono della chiusura dei musei e quindi sono chiusi. Ecco, infatti, volevo proprio portarlo su questo discorso della pandemia. Quanto ha inciso sull'attività lavorativa di Tivoli e quale misura avete dovuto prendere? Ha inciso certamente sulle attività legate al turismo, e quindi sul tessuto commerciale, sul tessuto ricettivo, sul tessuto ristorativo. Villa d'Este e Villa Adriana, da soli, Tivoli poi ha un terzo sito molto importante che è Villa Gregoriana, con l'acropoli, i due templi romani, che hanno rappresentato per decenni una delle immagini più riprodotte nella storia dell'arte non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa nei decenni del cosiddetto Grand Tour, cioè fine Settecento, inizio Ottocento. Villa Gregoriana, con i due templi, quello tondo, che sono di età romano-repubblicana e che costituiscono veramente un esempio di legame tra opera dell'uomo e bellezza della natura. A Tivoli c'è una cascata che, dopo quella delle marmore, è la seconda per altezze in Italia, alta più di 120 metri. Naturalmente la chiusura dei musei di Villa d'Este e di Villa Adriana ha ridotto drasticamente il numero dei turisti. Villa d'Este e Villa Adriana contavano, fino all'anno scorso, tutti e due, circa 800.000 visitatori, biglietti staccati all'anno. Sono musei statali, sia Villa d'Este che Villa Adriana. Era vicino ai 100.000 a Villa Gregoriana, quindi Tivoli, fino all'anno scorso, era visitata quasi da un milione di turisti. Si è drasticamente ridotto questo numero, i musei attualmente, ripeto, sono chiusi. Credo che quest'anno, alla fine dell'anno, non si arriverà complessivamente al numero di 100.000 turisti, soprattutto italiani, quasi esclusivamente italiani. Il tessuto commerciale ha risentito di questo. Ha molto risentito di questo. Ecco, c'è da tenere presente però che le attività industriali, invece, pensate che lo stabilimento della Trelleborg non ha sospeso l'attività neanche per una sola notte. Naturalmente, nello stabilimento Trelleborg si lavora su tre turni giornalieri 24 ore al giorno. Quindi, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni settori, anche importanti, hanno tenuto. E questo ha limitato gli effetti sul tessuto economico produttivo del territorio tiburtino, gli effetti della pandemia. Ci sono certamente e sono stati notevoli quelli relativi alla caduta del turismo e delle attività adesso legate. Signor Presidente, come mi consente di farle questa domanda visto che lei ha preso anche una medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica per bene meriti della cultura e dell'arte. Ma lei lo ritrova giusto aver chiuso i musei? Guardi, giusto o no? Necessario forse sì. Perché ancora oggi le misure che sono state adottate dal Governo o dalla Regione si sono rivelate insufficienti a limitare i contagi. Noi da diversi giorni ormai in Italia contiamo centinaia di decessi al giorno. Siamo arrivati credo una ventina di giorni fa ad avere quasi mille decessi in un solo giorno. Tutti i provvedimenti tesi a limitare i cosiddetti assembramenti sono stati mirati proprio ad evitare che il contagio potesse avere quantità più importanti. Quando dico contagio dico anche decessi. Assolutamente sì. Senta, per quanto riguarda le scuole qui a Tivoli come vi siete comportati? Guardi, abbiamo Tivoli ha una popolazione studentesca di diverse migliaia di alunni e di studenti. sono stati disposti sono state disposte per alcuni istituti temporane sospensione delle attività didattiche in presenza proprio per alcuni casi manifestati all'interno di scuole. Attualmente tutte le scuole primarie elementari e medie sono aperte. Ci sono state ripeto soltanto sospensioni delle attività didattiche disposte anche dal Comune ma per periodi limitati. Noi abbiamo avuto su una popolazione residente di oltre 57.000 abitanti in tutto dal primo manifestarsi della pandemia quindi dal mese di marzo ad oggi di oltre 2.000 casi di contagio. Devo dire che siamo stati Tivoli ha rappresentato una sorta di isola risparmiata dal contagio nei primi sei mesi da marzo ad agosto compresi ivi compresi quindi due mesi duri di marzo ed aprile. Nei primi sei mesi questa città ha avuto complessivamente 57 casi di contagio con 5 decessi di persone anziane e affette da gravi patologie connesse però in sei mesi 57 casi sono nulla sono assolutamente pochi con 5 decessi io mi sono molto preoccupato nel mese di settembre quando nel mese di settembre i casi soltanto per quel mese sono stati 39 quindi 57 casi in sei mesi 39 casi nel mese di settembre essendo numeri così limitati abbiamo potuto tracciare questi casi del mese di settembre e sono da attribuirsi in modo quasi esclusivo ai rientri dalle vacanze Sardegna Francia Croazia Grecia Spagna San Felice Circeo nel mese di ottobre i casi sono stati 548 nel solo mese di ottobre quindi c'è stata una nel mese di novembre sono stati 1040 ormai non è più possibile tracciarli c'è stato certamente un motivo nell'impennata che ha avuto origine ha posto le sue radici nel mese di settembre è stata quella del rientro dalle vacanze e questo lo abbiamo potuto tracciare noi pubblichiamo ogni giorno quotidianamente il numero dei positivi sia degli attuali positivi sia dei positivi dall'inizio ad oggi diviso per quartieri per fasce di età e per genere l'età media dei contagi su oltre 2000 contagi è ad oggi di 45 anni ecco signor sindaco mi consenta un'ultima domanda quali sono gli appuntamenti tradizionali ai quali avete dovuto rinunciare e che le dispiace di più tutti a partire dal tivoli secondo storici antichi come Cassio Dione come Catone il Vecchio è stata fondata nel 1215 avanti Cristo il Natale di Tivoli cioè il giorno nel quale si ricorda la fondazione della città cade il 5 aprile il 5 aprile era quest'anno in pieno lockdown era uno dei due mesi duri marzo e aprile quindi gli appuntamenti che si prolungano per un mese intero per il cosiddetto Natale di Tivoli sono stati tutti annullati così come è stata annullata tutta l'estate Tiburtina che comprende una serie di eventi soprattutto di spettacolo teatro musica che si tengono all'interno dei monumenti Tiburtini Villa d'Este Villa Adriana il Santuario di Ercole le chiese così come abbiamo dovuto annullare il Settembre Tiburtino anche quello è ricco di eventi la Notte Verde la Sagra del Pizzutello che è un'uva particolare così come la definivano gli antichi scrittori latini l'uva a corna è un'uva che ha degli acini che somigliano a dei datteri quasi la Gustava Poppea scrivono gli scrittori antichi anche quella sagra abbiamo dovuto annullare tutti gli eventi che si tengono ogni anno per il periodo di Natale abbiamo dovuto annullare anche il concerto che si tiene la notte del 31 dicembre in una delle piazze di Tivoli sempre con una grande partecipazione da cinque anni ormai quindi abbiamo dovuto annullare tutto tutti gli spettacoli in presenza abbiamo cercato di sostituirli parzialmente attraverso i media e quindi spettacoli con la partecipazione di associazioni musicali o di altro genere associazioni storiche attivoli attraverso dei video che vengono diffusi sulla rete dei media oltre che dei siti comunali ma abbiamo dovuto annullare tutto signor Sintra mi consente di farle quest'ultima domanda poco giornalistica è molto nazionale popolare però è molto credita dai nostri telespettatori venendo a Tivoli che cosa gli consiglia di mangiare qual è la gastronomia tradizionale ma guardi gastronomia tradizionale ci sono naturalmente molti ristoranti a Tivoli forse ecco uno degli effetti delle limitazioni governative regionali è stato proprio quello della chiusura dei ristoranti la sera bar e ristoranti l'asse che attraversa tutto il centro di Tivoli e che circa credo un di Tivoli onorevole prima di entrare in una parte un po' più istituzionale venendo qui a Sud sono rimasto molto colpito da questa iniziativa incontri a Sud che cosa significa di che cosa si vuole parlare nel corso degli anni la diocesi di Sutri Civita Castellano e Neppi aveva valutato con molta intelligenza che il palazzo vescovile di Sutri che aveva sede che era la sede del vescovo era un palazzo alla fine che non era più utilizzabile per la funzione primaria e quindi hanno ottenuto con molta capacità dalla regione un finanziamento per restaurarlo naturalmente una volta restaurato questo edificio meraviglioso il problema era cosa metterci dentro e come utilizzarlo l'idea di un museo di arte sacra era evidentemente la prima delle ipotesi della Curia poi in un accordo con il comune con il precedente sindaco tra l'altro il vescovo ha destinato il palazzo al comune perché ne facesse quello che riteneva opportuno io mi sono candidato anche valutando le capacità e le potenzialità di questo spazio con l'obiettivo di farne una sede museale e definendolo Palazzo Debbin che è il nome del vescovo che lo risistemò ai primi del novecento abbiamo aperto un museo in quel museo ormai il terzo anno in tre occasioni sono fatte grandi mostre con opere di grandi maestri da Giotto come in questo momento a Gerardo delle Notti a Penista da Volpedo a Lugadiere Rousseau che mettono insieme momenti diversi della storia dell'arte in dialogo quindi dialoghi a Sutri o incontri a Sutri in questo caso essendo poco lontana la torre di Chia dove ha vissuto gli ultimi anni e poco prima di essere ucciso è stato fotografato Pasolini c'è anche una parte dedicata a Pasolini in quella torre quindi incontri vuol dire personalità diverse che per azioni diverse che vanno dall'archeologia alla poesia al paesaggio si trovano o nel passato si sono trovati o nel presente si trovano a Sutri Mi consente di venire a questioni un po' più concrete su che si basa adesso l'economia di Sutri L'economia di Sutri è un'economia agricola con una tradizione legata alla coltivazione del nocciolo che è una delle prelogative dell'intera area e su un'economia turistica che si è potenziata da quando io sono arrivato attraverso la forte propaganda e comunicazione che io ho fatto di Sutri come capitale della Tuscia è in realtà unico luogo dei tanti bellissimi che ha un museo funzionante perché Viterbo ha alcuni problemi il museo di Bomarzo è un bellissimo parco il museo di Caparola è un museo statale qui abbiamo creato un museo civico sia pure connesso come abbiamo detto con la Curia che è una ragione di attrazione attraverso le attività che ogni anno vengono proposte in un ciclo molto ampio di iniziative quindi l'economia turistica quella di ottimi ristoranti che sono competitivi e tutti frequentati con persone che evidentemente li hanno scelti come luoghi di riferimento rende il turismo un'attività importante che è cresciuta negli ultimi tre anni in modo molto evidente ecco Covid a parte a Roma arrivano 12 milioni epiteristi ogni anno è stato fatto qualcosa di sufficiente per portarli anche a Sutri beh in realtà una parte di quelli che vengono a Sutri soprattutto nei fini di settimana sono appunto cittadini romani perché questa è la città che ha la posizione più eminente sulla Cassia andando verso Viterbo e quindi uno dopo mezz'ora da Roma incontra un luogo meraviglioso e florido come un paradiso di visibilizzazione di piante e di archeologia ma un'archeologia romantica che sarebbe sufficiente come luogo pittoresco e di grande storia tra etrusca e romana per venirci poi abbiamo potenziato le attrazioni appunto legate alle manifestazioni artistiche e c'è l'attività di ristorazione per cui è un luogo frequentato dai romani portando qui un volume di persone che solo per i musei supera i 10-12 mila visitatori e per i ristoranti credo anche di più quindi andrebbero valutati ecco quali sono le misure che ha dovuto prendere tra parentesi il suo malgarato per il Covid e qui a sì perché sappiamo la sua posizione sul Covid beh io sul Covid ho preso delle posizioni che sono apparse estreme ma in realtà erano soltanto una visione di speranza e di ottimismo cercando di non dramatizzare al contrario del ministro speranza cioè l'idea di dare notizie catastrofiche attraverso una comunicazione complice e orientata dal governo per far sentire il peso del rischio induce le persone alla giusta prudenza ma è evidente che se io incontro una persona che guida la sua automobile da solo con la mascherina non posso ritenere che questa sia altro che una forma di psicosi e così camminando con sua moglie per strada dal momento che poi si andrà a letto a un certo punto è così quindi ho tentato di dire non si deve portare alla mascherina se non dove necessario d'altra parte le speculazioni le decine di milioni di euro che sono stati confluiti in tangenti fa capire che c'è stata una speculazione speculazione favorita dalla paura per cui la mia posizione è stata quella di rassicurare i cittadini che nella prima fase non avevano neanche un contagiato e nella fase questa evidentemente sottovalutata dal governo la situazione è meno come dire di compiacimento per la salvezza e la sanità della città però comunque si tratta di numeri molto limitati quindi io ho cercato di rassicurare anche tenendo aperto il museo quando non era consentito dal governo e sono stato poi contrastato dal prefetto rassicurare i cittadini che il rischio non deve essere superiore alla possibilità di vivere in una condizione che è un luogo come questo come tanti piccoli luoghi cioè il governo ha fatto l'errore soprattutto secondo me di omologare le grandi città o le città ai piccoli paesi di campagna dove effettivamente i rischi sono molto più piccoli anche rispetto quindi questa è stata la mia posizione poi potrei essere stata ritenuta avventata ma certamente non era negazionista e quindi io ho dato ai cittadini la sensazione che potevano tentare di vivere come erano sempre vissuti cosa evidentemente non possibile per cui a un certo punto mi sono dovuto rassegnare perché ci si vuole ridurre in queste condizioni al di là del rischio reale per quello che mi riguarda però non lo dirà che io minimizzo e quindi preferisco dire faccio obbedisco se ti ha avuto problemi con le scuole l'assunto le scuole hanno riaperto e poi richiuso cioè come è capitato in tutta Italia nel senso che l'opzione dopo il periodo della clausura è stata quella di riaprirle ma l'apertura in realtà è stata subito contrastata dal collegamento a distanza e dall'insegnamento che è tra l'altro uno degli argomenti di cui si parla nelle audizioni alla Camera cioè sapendo anche lì la posizione direi coraggiosa della Ministra Zolina nel volere mantenere le scuole aperte e invece altri ministri e il Presidente del Consiglio che hanno ritenuto che fosse più sicuro tenere le chiuse quali sono gli appuntamenti tradizionali di subito di chi ha dovuto non fare o non abbiamo dovuto abolire una delle occasioni nel secondo anno della mia sindacatura abbiamo intercettato un festival importante letterario e anche diciamo legato alle feste alle tradizioni che si chiama Caffeina portando oltre 60.000 persone nelle vacanze di Natale nei 15 giorni di Natalizi con un riscontro positivo e tale da indurci a ripeterlo quest'anno invece quest'anno né quello né i mercatini di Natale né il presepe vivente che è una tradizione di Sutri sono stati prodotti di realizzare ora io immagino che un presepe vivente avendo dei volontari in grotte ricavate da spazi della necropoli non sarebbe stato pericoloso però immaginare che tante persone vadano a vederli fa presumere quell'atteggiamento di festa che è stato cancellato a partire dalla volontà della stessa Chiesa e del Papa stabilendo che si poteva rinunciare anche a quelle festività quindi noi anche lì abbiamo dovuto chiudere tutte le iniziative che sono tradizionali per sepe vivente è effettivamente molto suggestivo e gira intorno alla montagna sacra con le postazioni dentro la necropoli con effetti certo io vedendola l'anno scorso posso immaginare che potesse determinare assembramento però si poteva contingentare il percorso delle persone consentendo di andare a vedere comunque i pastori i magi il bambino cosa evidentemente interdetta da un prevalere di una dimensione sanitaria su qualunque anche tradizione e sacralità i cui riti comunque io credo che dovrebbero essere confermati e rispettati allora mi consenta di terminare questo nostro incontro nella sua resta di sindaco è una domanda che io faccio sempre poco giornalistica e molto nazional popolare risponda come sindaco che si mangia di buono a Sutri allora a Sutri c'è una tradizione del fagiolo che io però non mangio quindi per quello che vi riguarda il Sutri ha un'ottima tradizione di primi piatti di tagliatelle e di diciamo condimenti legati ai ragù tradizionali o ai funghi per quello che io posso poi quale sia la tradizione dico oltre a questa del fagiolo che è storica ma immagino anche un po' limitata dal nocciolo c'è anche la cacciagione non vorrei entrare in una sfera nella quale poi valutiamo in opportunità di mangiare gli animali la mia posizione personale è di essere un primista io sono un mangiatore di primi e quindi i primi di Sutri sono sempre molto carichi e forti ci sono alcuni ristoranti che conoscono le mie predilezioni quindi io vengo assistito in tutti i primi tradizionali soprattutto appunto le tagliatelle e gli spaghetti